Ancora ottimi risultati per l'Università degli Studi di Salerno. L'indagine realizzata dall'Istituto Censis sugli Atenei pubblici italiani, contenuta nella guida sull'Università 2013-2014 diffusa dal quotidiano La Repubblica, premia l'Ateneo Salernitano per la funzionalità del sito internet, per la didattica e per la ricerca di alcuni gruppi disciplinari. L'Ateneo Salernitano si classifica al decimo posto tra gli Atenei considerati grandi, cioè quelle strutture che contano un numero di iscritti compreso tra 20.000 e 40.000 studenti. I punti di merito vanno all'attività di didattica delle lauree triennali nelle discipline socio-politiche che conquistano il 28esimo posto ed Ingegneria 29esimo posto. Seguono le discipline chimico-farmaceutiche, le discipline umanistiche, quelle linguistiche, ottimi risultati ed apprezzamenti per la formazione impartita dalle lauree magistrali a ciclo unico, tra cui spicca quelle in Ingegneria edile, classificata al 24esimo posto a livello nazionale, seguita da farmacia, medicina e giurisprudenza. Per quanto riguarda il campo della ricerca, l'area delle lauree in Ingegneria Civile si posiziona al quarto posto, al pari, dall'Università di Bologna. Seguono le scienze matematiche ed informatiche, ingegneria industriale, le scienze chimiche, il settore letterario, le scienze economiche, giuridiche e politico-sociali. Il Censys non premi invece le strutture, i servizi, le borse di studio e tutti i contributi che l'Università di Salerno eroga agli studenti. Un altro punto di demerito è dato dalla scarsa presenza di studenti stranieri iscritti e di studenti che scelgono l'estero per studio o tirocini.